Contro il crollo del prezzo delle ciliegie in campagna è per superare il divario con il prezzo molto più alto pagato dai consumatori. Con questo intento, Coldiretti ha celebrato a Bari la Ciliegia Day, una festa del prodotto simbolo dell'eccellenza pugliese, la ferrovia, per mettere in evidenza le difficoltà degli agricoltori costretti a vendere alla grande distribuzione quintali di ciliegia a prezzi molto bassi. Dal produttore al consumatore, secondo la filosofia di Coldiretti, l'associazione di categoria ha allestito i suoi gazebo nella spiaggia di pane e pomodoro per degustare il prezioso oro rosso e vendere le ciliegie ad un prezzo equo, 1,50 euro al chilo. Buone anche perché ha il prezzo giusto, un prezzo più basso? Sì, è onesto, 1,50 euro è buono. Conveniente così? Conveniente sì. Mia moglie mi ha detto di andare a comprare le ciliegie e sono venuto da voi a comprare le ciliegie. Quindi sua moglie i prezzi li conosce? Sì. La produzione di ciliegie in Puglia è pari al 40% del totale nazionale e anche quest'anno, nonostante il maltempo, è molto buona. Coldiretti punta a far arrivare le ciliegie locali e di qualità sulle tavole dei pugliesi, proprio abbattendo i costi dei passaggi della distribuzione che fanno lievitare il prezzo in maniera esponenziale. Noi abbiamo trovato anche i prezzi che superavano gli 8 euro al chilo nella grande distribuzione. Questo ci ha fatto pensare, oltre ad aver incontrato i nostri produttori sul territorio che lamentavano il prezzo troppo basso, ad organizzare dei momenti che fossero di rapporto diretto con i consumatori. Però questo significa anche riuscire a dare valore al nostro oro rosso. Dobbiamo avere l'intelligenza di vendere il modo giusto per venderlo di più e far stare bene l'intera filiera.